Buongiorno a tutti, grazie a Teresa che ha già accennato di questo progetto, che ci ha visto con i nostri compagni di viaggio. Io faccio partire dalla presentazione. È stato un viaggio particolare, è stato un viaggio di qualche mese, tra aprile e maggio, che ci ha visti confinati a casa, ma appunto uniti da questo confronto cercato durante questi giorni particolari per tutti. Se mandiamo la presentazione, ecco, questi sono i compagni di viaggio, li ho messi anche in ordine di intervento, quindi ASV tre officine di architettura, Fiorenzo Valbonesi, poi Iotti e Pavarani Architetti, abbiamo sul palco Paolo Iotti, poi Labix, abbiamo sul palco Francesco Isidori, Tama Associati, abbiamo sul palco Simone Sfriso, diverse righe studio, con noi c'è Simone Gheduzzi, poi continuo a presentarli orizzontale, un gruppo di sette progettiste, abbiamo Margherita Manfra, Bricolo Falsarella, abbiamo Filippo Bricolo e per chiudere abbiamo Map Studio con Traudi Pelzel e Francesco Magnani. Quindi undici studi, ma ne vedete presenti otto, ma grazie all'esperienza della pandemia ci ha insegnato anche a usare tecnologia, quindi Werner Scholl, Cino Zucchi e Alfonso Femia hanno contribuito a questo progetto, li abbiamo intervistati lunedì e quindi avremo, diciamo, il panorama completo. Panorama che appunto si è conclusa questa nostra esperienza di pandemia con un brindisi, questa è stata la cosa positiva per me e per Elena Romani, con la quale abbiamo condiviso questo viaggio virtuale, ma con l'apertura lenta ma progressiva degli spazi hanno aperto i musei, quindi consiglio a tutti, questa è finita qualche mese fa, ci sono delle bellissime mostre in questo momento in Italia, su dei maestri italiani, per esempio al Maxi, su Aldorossi. Ho avuto occasione di visitare la mostra che qua vedete, Carlo Aemonino, fedeltà al tradimento, alla triennale di Milano, perché l'idea c'era di ritrovarsi in presenza e siamo qua, ma non c'era proprio un'idea precisa di cosa fare, cosa raccontare. Erano sicuri di non parlare delle loro architetture, perché avevamo già fatto negli small talks, ma la bellezza del viaggiare è proprio quella che le idee vengono viaggiando, quindi viaggiare come studiare, Carlo Aemonino, questa è l'immagine appunto scattata alla mostra. Poi si pensa ai viaggi, io un po' qualcosa ho fatto nel senso a livello esperienziale di viaggiare, i viaggi in Italia, c'è le Corbusier sicuramente, ma Alvaralto è uno dei più innamorati dell'Italia, tant'è che si sposa in Italia. Questa è l'immagine di Alvaralto a Carrara, e di lì parte poi il ragionamento del racconto che verrà fuori oggi, che sono le parole di Alvaralto del 54 che trovate in Casabella con Tenità 200. Non voglio parlare di un viaggio in particolare, forse un viaggio che ho compiuto nel passato e continuo a vivermi nella memoria, un viaggio che sto facendo o forse un viaggio che farò nel futuro. Un viaggio di questo genere è forse nel condito se ne qua non per il mio lavoro di architetto. Ecco, qui ci sono i passaggi chiave. Un viaggio che ho compiuto nel passato, ma che continua a vivermi nella memoria, quindi c'è il ruolo della memoria e il passato. Oppure un viaggio che sto facendo o forse un viaggio che farò. E questo è un po' quello che io ho chiesto ai miei compagni di viaggio, ai nostri e ai vostri a breve compagni di viaggio, di fare un ragionamento su un luogo della memoria, un luogo amato, un luogo della formazione e il luogo dei desideri. Perché c'è tutta la volontà di ripartire a viaggiare, si torna a viaggiare e perché no organizzare un bel viaggio tutti assieme qua, condividendolo con il nostro pubblico. E per cui ora, cadenzato con un certo ritmo, mi scuso con gli amici di averli condannati allo sgabello per un po', ma vediamo chi resiste. E come vi dicevo abbiamo tre interventi video e per rompere il ghiaccio partiamo con un intervento video col caro amico Werner, collegato da casa lunedì, la sua casa studio, che ci racconta la sua esperienza. Mi piace moltissimo questa idea del viaggio e di ripensare a un'opera specifica che nel passato è stata un'opera che ha influito molto sul lavoro. Forse quella volta che ho visitato quest'opera non mi ero neanche accorto, però stamattina ho riguardato un po' questi disegni, tutti gli armadi e per fortuna ho trovato ancora uno schizzo della casa di ferie di Alvaralto in Finlandia, Amur Azzalo. E riguardando questo schizzo ho visto che ho scritto, io di solito scrivo pochissimo, e qui avevo scritto che di tutto il viaggio in Finlandia di Alvaralto forse questa casetta mi è piaciuta di più, perché da un lato logicamente è una cosa, adesso parlo del 79, quindi l'ultimo anno di studente, quindi più di 40 anni fa, era difficilissima trovarla, perché dentro nel bosco e quindi quando uno si avvicina quasi non la vede. E forse questo mi ha impressionato, che la casa c'è e non c'è, è nascosta, è praticamente perfettamente integrata in questo bosco e nel luogo che bisogna cercarla. Poi avvicinandosi uno capisce che questa casa ha due lati, uno interno e uno esterno, quindi uno per intravedere, diciamo, la casa e l'altro per vedere fuori. E questo forse mi ha impressionato di più di tutto di alto, vedendo questa casetta con questo cortile interno fatto con questi due materiali, materiale mattoni bianchi all'esterno, quindi con i sassi del, diciamo, del paesaggio si ambienta benissimo, all'interno invece il caldo del matone rosso, con tutti i suoi dettagli naturalmente, e devo dire che sono stato lì un giorno intero, seduto su una di queste pietre che la circondano, a guardarla da tutti i lati, sia dall'interno e dall'esterno. Per qualche ora c'era anche la signora Alto che stava dentro nel cortile, naturalmente non sono andato a disturbarla, però quando poi è andata via ho cercato di fare qualche foto che state vedendo, delle diapositive che stamattina ho fatto digitalizzare. Però forse proprio questo rapporto natura-architettura che in quei tempi sicuramente non ho capito cosa volesse dire, oggi a distanza di più di 40 anni devo dire che questa casa mi è sempre rimasta dentro, è sempre rimasta una delle mie case preferite e forse oggi comincio un attimino a capire quello che Alto è riuscita a fare con questa casa. Uno dei luoghi che sicuramente nella mia vita vorrei ancora visitare è Machu Picchu in Perù. Anche questo insediamento mi ha fatto sempre una grandissima impressione, logicamente l'ho sempre solo vista dalle foto, ma anche lì mi sembra che è già difficile arrivarci, cioè il luogo non è facile da trovare, non è facile da arrivarci, forse anche se adesso c'è troppa gente, è follato, però mi sembra in un luogo dove uno deve andare lì a camminare, forse anche quando andrò lì andrò a piedi a visitarlo sull'Inca Trail in modo da capire anche l'approccio che l'Inca avevano a questa città in alta montagna e anche lì mi sembra la stessa cosa come ha fatto Alto, il rapporto tra architettura e natura e paesaggio qui è perfetto. La stessa cosa come Alto ha fatto con i materiali anche loro usando il materiale del posto, il materiale che si adatta benissimo sia per le costruzioni sia anche per i terrazzamenti quindi un unico materiale, tutte queste cose nel loro complesso hanno un grande fascino e diciamo è una cosa che veramente prende il cuore di ognuno che vede queste foto, quindi per questo un giorno sicuramente dovrò andare a visitarlo visto Werner, quindi il ruolo architettura e natura, quindi neanche si parla di paesaggio che accomuna la scelta delle due opere, quella del cuore, della memoria e quella del desiderio il collegamento col prossimo amico, compagno di viaggio, Fiorenzo Valbonesi non è solo la scelta poi delle opere ma è anche un'affinità per l'esperienza nel mondo del vino Fiorenzo, visto che avete questa passione in comune di progettare cantine vinicole io lascio la parola a Fiorenzo per il suo racconto si sente? Perfetto il fatto che Werner Scholl parli prima di me mi ha fatto piacere per una cosa perché intanto pur non sapendo che cosa avrebbe scelto lui e non so neanche che cosa hanno scelto tutti gli altri io l'oggetto che mi ha dato, segnato profondamente, professionalmente e soprattutto che sto ritirando fuori più passano gli anni, perché anche stavolta mi trovo il più vecchio di tutta la comitiva compreso di Werner, perché mi sono laureato nel 77, lui parlava di 79 quindi è il senso della misura il senso della misura pur essendo pensionato continuo a lavorare e nel lavorare continuo ogni tanto a confrontarmi con quello che noi tutti facciamo anche perché penso che la platea nella stragrande maggioranza è fatta di colleghi e in questo momento guardando Archie World Archie Products Archie Lovers, eccetera, eccetera si vedono delle prove muscolari, continue, costanti cercando di dimostrare che l'acqua va in salita e probabilmente l'abbiamo fatto tutti probabilmente l'ho fatto anch'io quando ero più giovane perché è proprio un desiderio di raccontare perché forse fa parte della nostra indole però oggi alla luce di una posizione che ho io che non è una posizione né di vincente né di perdente ma di una persona che ha passato tutta la sua vita cercando di dare quel poco che aveva però comincio a avere la necessità di avere un senso della misura cosa voglio dire il senso della misura? una casina così siamo negli anni 30 è una casa piccola è una casa monofamiliare è la casa dell'architetto che ha fatto Muraccialo è la casa dentro Helsinki dove lui ha vissuto i primi anni con la prima moglie e basta guardare l'intelligenza con cui va a risolvere l'ingresso in casa un portone banalissimo del garage che lo risolve con un piccolo un'antina piccola per favorire l'ingresso in casa dell'automobile che magari sarà stata cambiata o modificata per poterci entrare ma è una casa che ha onestamente il senso della misura io ci andrei a vivere non serve di più cioè c'è tutto quello che ci deve essere il niente due sedie due appoggi per i libri grandi vetrate che guardano fuori tutto sul suo disegno ed è tutto contemporaneo tutto attuale e non c'è niente da aggiungere e niente da togliere cioè io entrerei lì dentro non toglierei niente solo i libri perché non li saprei leggere in finlandese ma per il resto i disegni così allora a tutti i colleghi cosa voglio dire che Alvarato è difficile da capire è un architetto che io ho visitato due volte e devo dire che tutte le volte che ci torno trovo che sia ciclopico è un architetto che viveva così semplicemente c'è una trave ribassata nel tetto in un soffitto di casa propria che nessuno di noi accetterebbe eppure l'ha accettato una tendina che è oscura un pavimentino in legno ma questo che può sembrare quella zebratura della poltrona un qualcosa di ostentante lo studio era questo ragazzi era questo rigatì eppure progettava quello che ha progettato quindi vuol dire che non serve tanto muscolo non bisogna essere dei palestrati bisogna avere quello che serve per fare le cose tutto quello che è eccessivo non serve a niente ma non lascerà neanche traccia e il garbo e la misura è micrometrico non è chilometrico cioè è una di quelle cose la scaletta con la quale scappava dal committente che rompeva le scatole è geniale cioè l'ha fatto in tutti e due gli studi pensare a questo lui prendeva il via attraverso questa scalettina e scappava perché se no lo distruggevano psicologicamente e quanti i committenti abbiamo incontrato che hanno messo a dura prova la nostra salute psichica enormi perché chi non ne ha accontrato lo faccio santo e questa è la sua camera da letto ragazzi è questa non c'è niente però che cosa manca? niente niente allora un bagno oggi siamo al Cersaie avete visto i bagni? avete visto che roba? guardate questo cosa cambia fra questo e quello là? niente funziona nella stessa maniera io preferirei questo a quelli che ho visti là quei lavandini dove se ti dai a sciacquare la faccia con troppa violenza lavi il bagno tasse da sembrano i vecchi pitali di una volta no questi sono lavandini il senso della misura è in rapporto anche alla funzione che si deve svolgere in una cosa ed è semplice perché guardate la complessità di questa lampada e guardate le lampadine che vengono fatte oggi lì dentro quella casa si progettava in questa maniera quindi non è mai una dimensione o uno spazio che determina la qualità con la quale si vive è sempre la nostra di pensiero che deve trovare l'equilibrio all'interno di quella determinata cosa ed è questo secondo me cioè se io oggi dovessi e parlo con quei pochi studenti che ho conosciuto quei tanti non bisogna andarci a 25 anni probabilmente non si riesce a capire chi sia Alvaralto però a 35 40 è obbligatorio andarci e io se potessi la prossima estate tornerai a rivederlo in processione come ho fatto dalla chiesa di Lati Murazzolo Sanaiocchi l'unica cosa dove non sono stato è dove nasce dove c'è Babbo Natale perché Babbo Natale è il suo e poi non si arriva mai poi per un oggetto però prima o poi andrò anche lassù pensando al futuro vado in un periodo vado in un edificio del 600 proprio perché il senso della misura questo questo è 1600 questa è la villa imperiale di Cazzura Bosimo ha detto che mi ci porti il prossimo anno che faccio 70 anni io lo scauccio l'ho e quindi io sono già a cavallo nel senso che ho semplificato il tutto però questo era pensando al nostro 600 e quindi al barocco un barocco in avanzata prima anticipato dal Mocchi nella scultura a Orvieto del lancio all'annunciatore con quelle volute eccetera eccetera tutti i ricci i fronzoli questo è il 600 in Giappone allora capire il Giappone ci ha provato Munari ci ha provato Arai ci ha provato Scarpa non è così facile non è così facile perché non c'è solo da studiare la filosofia le tradizioni la cultura il linguaggio ma bisognerebbe parlare scrivere conoscere la storia e conoscerla come l'Occidente i giapponesi tutti col mondo occidentale hanno dovuto farci conti perché di fatto tranne loro il mondo era occidentale e loro conoscono noi ma conoscono anche loro stessi noi siamo sempre un po' approssimativi nella conoscenza per quanto lo possiamo amare però questa è secondo me il più bel 600 che io abbia mai visto perché è un 600 che anticipa il nostro tempo perché questa non è è impossibile da non amare ci sa qualcuno che non l'ama però mi è del tutto indifferente democraticamente parlando proprio non lo fumo pari sì sono poco democratico lo so mi innamoro di una cosa non puoi dirmi che i miei amori non vanno bene sono i miei e rimangono i miei però ecco questa è c'è tutto e non c'è niente però questo è è il futuro se pensiamo al movimento del stile pensiamo a Rai pensiamo a Scarpa c'è tutto il movimento organico c'è tutta c'è Alvaralto c'è il mondo qui dentro ed era del 600 ecco mi piacerebbe vederla dimensionarla perché ho visto la casa sulla cascata ci ho camminato dentro però era troppo piccolo Frank Lloyd Wright per me un soffitto a 220 in un ambiente da 150 metri quadrati avevo il senso di di soffocamento di essere schiacciato e io scusate purtroppo sono nato 1,80 e faccio fatica a stare ci sono dovevo stare sempre sedere e quindi no ecco questo è il mio futuro quindi un futuro di professione di ricerca di passione di amore e di condivisione con tutti gli amici a cui voglio bene non il microfono Fiorenzo aveva anche il ruolo di rompere il ghiaccio sei uno dei pochi romagnoli sul palco per cui era fondamentale prego Paolo sì buonasera a tutti intanto un ringraziamento a Roberto e a Elena Romani che intanto durante la pandemia hanno tenuto insieme questa rete di amici obbligandoci a bere in diretta durante gli small talk per questa occasione ho tirato fuori alcuni reperti archeologici da alcuni viaggi che abbiamo fatto e che credo siano stati importanti per per la nostra per la nostra formazione queste foto dimostrano anche che poi invecchiando non necessariamente si peggiora ecco in questo caso io e Marco siamo con degli amici italiani e spagnoli nel 95 in uno dei tunnel del collesio universitario di Urbino di Giancarlo De Carlo quell'estate abbiamo passato un mese a San Marino in questo workshop appunto dell'Ilaud un'esperienza incredibile per quanto poi abbiamo capito col tempo il valore di quell'esperienza e la visita a Urbino è stata una prima una prima volta in cui abbiamo avuto probabilmente consapevolezza dell'attenzione che dovevamo prestare allo spazio l'articolazione volumetric ma soprattutto la sequenza di questi di questi percorsi coperti aperti le terrazze l'apertura fantastica verso il paesaggio delle stanze sono elementi che appunto senz'altro alimentavano il senso dell'avventura della scoperta e come primo approccio all'architettura credo che sia stato importante così come è stata importante appunto la possibilità di stare accanto a De Carlo per un tempo così così lungo rispetto al quale appunto alcune consapevolezze poi le abbiamo lasciate decantare sono emerse probabilmente negli anni come ad esempio l'espressione rovesciare il cannocchiale che tuttora noi sentiamo molto diciamo ormai appartenere anche a un approccio che vorremmo cercare di mettere in campo ogni volta che immaginiamo trasformazioni del territorio rovesciare il cannocchiale significa pensare alla qualità del territorio non come la sommatoria della qualità di tante piccole architetture ma appunto sapere che il territorio è la lente col quale guardiamo ogni ogni intervento un'altra esperienza invece questa più personale di un paio di anni più tardi è stata la visita a Parigi di Ville Chavois in questo caso invece la rivelazione è stata abbastanza chiara fin da subito ed è rimasta poi nel tempo la complessità racchiusa in un volume apparentemente non entusiasmante ma che inanella una sequenza incredibile di prospettive di spazi interni esterni viste verso il bosco al contorno di sorprese continue mi ha dato in modo immediato la la dimensione cinematografica narrativa dell'architettura e questa consapevolezza da allora non l'ho più persa a questa quasi come da contraltare fa invece l'esperienza all'American Bar di Loss altri due anni dopo probabilmente questo era l'anno della laurea purtroppo io assomigliavo già al personaggio alle spalle però appunto alla dinamicità di Ville Savoie qui credo che abbiamo sperimentato la necessità per l'architettura anche di creare una forte intimità un forte calore e questo appunto all'interno di uno spazio piccolissimo che tuttavia riesce a non essere soffocante perché Loss inventa anche lui dei punti di fuga quindi tutti gli specchi nella parte alta del soffitto che dilatano lo spazio di fatto generano questa questa dialettica che è un'altra è un'altra diciamo perla di insegnamento che anche recentemente che stiamo lavorando su degli attegli scolastici diciamo diventa un ingrediente importante nel nostro lavoro riguardo al futuro in questo caso posso parlare solo appunto in modo personale visto che appunto è una cosa molto ognuno lo vede in modo diverso io e Marco condividiamo una visione molto unitaria sull'architettura sul modo di approcciarci ma ovviamente partendo da sensibilità diverse e modalità anche molto diverse di immaginare le cose quindi in realtà pur nella curiosità che ho verso un'infinità di posti non ho un sogno nel cassetto un luogo che dico più di tutti gli altri vorrei visitare più spesso attendo che gli eventi mi conducono in qualche luogo e anche in quel caso come modalità spesso non mi do neanche delle mete cioè metto in campo una sorta di scelta di percorsi anche casuali in cui mi spoglio completamente dell'ansia dell'architetto di voler sempre immaginare la trasformazione dei luoghi a favore quasi del solo puro vedere che non è ovviamente un'operazione innocua perché è comunque qualcosa che mette in campo un senso critico che cerca di di far emergere a volte le contraddizioni dei luoghi a volte le dinamiche d'uso che diversamente dai nostri studi non possiamo neanche percepire o immaginare o aspetti immaginifici che appunto i luoghi ci offrono come sorprese come dei set che sembrano da far west e che troviamo invece nel nord Europa o infine la ricchezza delle architetture senza architetti le architetture spontanee in cui la stratificazione il senso del tempo continuano a essere degli elementi diciamo che in qualche modo devono rimanere nel nostro immaginario quindi anche per il futuro immagino che continuerò quasi a prediligere il fatto che la strada non sia necessariamente un percorso ma è un luogo essa stessa di scoperta grazie Paolo apprezzo questa cosa della essere sedotti dai luoghi e non cercarli quindi trovare degli inviti per poi navigare in questi distretti in queste città è fantastica l'immagine quello spazio magico e intimo come l'American Bar e quello scatto è prezioso secondo me il vostro prossimo disco ve lo consiglio come copertina perché mi ha colpito quando ho ricevuto domenica il materiale ora lascio la parola a Francesco Isidori che appunto è solo non è riuscito a venire con Maria Claudia ma appunto ci racconterà il suo pensiero grazie grazie Roberto grazie Elena l'idea è molto bella ci fa piacere ritrovarci anche di persona dopo il famoso aperitivo fatto a distanza quindi devo dire mi è piaciuta molto anche questa idea di raccontarsi attraverso le altre architetture anche perché una di quelle cose di cui sono sempre più convinto è il fatto che poi il nostro lavoro non è altro che un continuo ricercare e riscrivere architetture che già esistono e i più bravi secondo me sono quelli che riescono meglio di altri a rileggere le architetture del passato ma parliamo da sempre fino ad oggi quello che c'è di buono è reinterpretarlo quindi l'idea è brillante l'edificio lo conoscete tutti è il convento della Tourrette di Le Corbusier e la scelta è puramente emozionale mi sembrava giusto andare sul il primo grande amore che il primo grande amore della vita non si scorda mai ho visitato ho avuto la fortuna di visitarlo ancora a studente all'ultimo anno e di passarvi i due giorni là dentro ed è un progetto complicato devo dire che quando la prima volta l'ho visto non l'ho capito tutto fino in fondo però c'era qualcosa di incredibile di straordinario in questo luogo che mi ha rapito poi via via che sono andato avanti negli anni ho cercato sempre più di capire di razionalizzare questo amore che in qualche modo c'era ma era difficile da descrivere anche perché non è un bel edificio non si può dire che bel edificio è un edificio complicato un edificio fatto di di tante cose dentro e questa è una delle cose che mi è piaciuta di più innanzitutto il rapporto con il paesaggio anni dopo leggendo di Le Corbusier che arriva su questo luogo insieme con i frati questo è un convento per domenicani arriva lì e ancora non aveva deciso dove mettere l'edificio e sceglie questo luogo che è un luogo fortemente in impendenza e quindi fondamentalmente si arriva da dietro quasi nella parte alta e poi l'edificio si sviluppa diciamo a scendere e proprio Le Corbusier quando lo racconta dice appunto sono arrivato lì e mi sono reso conto che la cosa più bella che c'era in questo luogo era la natura e l'orizzonte e quindi l'edificio parte dall'orizzonte parte da un orizzonte che in qualche modo si misura con la dimensione infinita del paesaggio e sotto il terreno scivola via e l'edificio si costruisce inseguendo il terreno quindi si costruisce un po' al contrario di come si fanno normalmente gli edifici che partono dalle fondazioni e poi crescono questo qui invece è partito dal tetto e è sceso giù e questa è già una cosa straordinaria l'altra cosa straordinaria è che è un edificio che proprio perché è sospeso non ha rapporto in qualche modo con il terreno con le sue fondazioni ma allo stesso tempo ha uno straordinario rapporto con il paesaggio proprio grazie al fatto che si solleva il paesaggio entra dentro e uno dei luoghi più belli del convento è proprio camminare attraverso queste colonne questi pilastri che scendono giù e capire come la natura in qualche modo si insinua dentro questo edificio e lo corrompe perché poi in fondo in pianta è un grande è un grande rettangolo la classica pianta di un convento quindi diciamo con il chiostro più o meno quadrato la chiesa che si pone su un lato a chiudere il chiostro però poi di fatto attraverso delle continue scollature sugli angoli ma anche attraverso questo sollevamento la natura entra dentro il chiostro che quindi appartiene allo stesso tempo allo spazio interno e allo spazio esterno e poi un'altra cosa straordinaria è che è una piccola città e devo dire che questa cosa anche qui l'ho capita col tempo noi sono tanti anni che ci arrovelliamo sull'idea di architettura che diventa città micro città le architetture più interessanti sono quelle che mettono insieme tante cose diverse e creano delle dinamiche questa è un'architettura per più di cento monaci sono più di cento le celle appunto dove dormivano e qui si creano dei propri rapporti delle città quindi si sale si scende ci sono le piazze ci sono gli slarghi ci sono le sorprese ci sono i percorsi ci sono anche i monumenti è un po' come un brano di città e infine l'altra cosa straordinaria è il carattere laico e mistico allo stesso tempo laico perché quando si arriva lì non sembra di trovarsi in un convento non c'è nulla di particolarmente mistico poi si entra dentro lo spazio della chiesa ed è uno spazio assoluto un grande rettangolo vuoto dove non c'è quasi nulla c'è un taglio di luce in fondo a destra c'è un taglio di luce in basso dall'altra parte e null'altro solo silenzio solo spazio assoluto buio scuro e ricordo ecco questo giusto un ricordo personale dopo averla visitata più e più volte cercando di capire perché poi è un'architettura che appunto non la si capisce subito di notte a un certo punto alle due di notte esco dalla mia cella e comincio a vagare diciamo attraverso i percorsi e entro dentro la chiesa e allora lì mi vengono ancora i brividi il silenzio era ancora più assordante diciamo di quando l'ho visitata di giorno perché non so era la magia mistica veramente di qualcosa che è difficile ancora da capire per me e e questo è lo spazio della cappella il futuro il futuro è anche qui un'architettura un'architettura che è diversa però anche questa in qualche modo per me ancora avvolta da un certo misticismo spero di con Roberto di andarci prima o poi un'architettura in qualche modo senza tempo un'architettura che descrive quello che poi forse un po' il tentativo di noi architetti di cercare qualcosa che sfugga appunto la dimensione la dimensione del tempo che in qualche modo rende sempre gli edifici estremamente come dire effimeri in un certo senso e qui Cann riesce appunto attraverso la costruzione di questa sequenza di volumi cavi che si rincorrono l'uno all'altro a veramente raggiungere una dimensione sospesa di architettura c'è chi poi lo ha criticato perché è stato in qualche modo l'inizio del postmodern ma invece a mio modo di vedere è riuscito a ritrovare quella incredibile capacità appunto dell'architettura di costruire quasi delle rovine abitabili anche qui come in Le Corbusier la natura entra dentro l'edificio attraverso queste grandi cavità queste grandi aperture che in qualche modo si lasciano attraversare anche qui come nel convento della Tourrette è una microcittà l'edificio lo conoscete parte da uno spazio centrale che è lo spazio dell'assemblea intorno al quale si montano i diversi volumi che contengono gli uffici contengono lo spazio del Consiglio dei Ministri dove si mangia e infine lo spazio della preghiera e anche qui è un'architettura in bilico tra semplicità e complessità tra la forma pura e qualcosa che contraddice questa idea della forma pura e soprattutto degli spazi che si vengono a creare tra le cose e credo che sia una delle cose più interessanti appunto del concepire l'architettura come città è immaginare lo spazio tra le cose in fondo la città non è altro che un insieme di luoghi tra le cose tra gli edifici e lo spazio che più ci interessa più mi interessa è proprio lo spazio tra le cose che si vengono a generare non le cose stesse e l'architettura di Cannes credo perché non ci sono mai stato ma studiandolo a fondo credo sia proprio così è un'architettura di spazi tra le cose e penso sia finito grazie Francesco ora mi è più chiara anche la vostra lettura e il vostro lavoro se penso a Tiburtina piuttosto che qui vicino il Mast e lo spazio tra le cose e il tema della città posso dire un aneddoto su Dacca che ci sono stato tre volte la seconda con una congrega diciamo di docenti di esponenti dello UF di Venezia tra cui il rettore dell'epoca che disse ora posso anche morire cioè dopo aver visitato il Parlamento di Dacca ma mano a mano che cresce perché siamo partiti vicino al tema ad Alvaralto poi ci saranno dei picchi e ci saranno anche dei luoghi in cui non sono stato e quindi il vostro racconto è veramente molto prezioso per costruire poi questo famoso itinerario ciò che accomuna anche il passaggio da Francesco a Simone è di questi luoghi dove ci si può lavorare si può vivere vanno vissuti quindi il convento della Turrette dove anni fa mi ha fatto dei bellissimi workshop di più giorni idem quello che poi ci racconterà Simone che abbiamo condiviso delle bellissime settimane bene grazie grazie Elena grazie Roberto Roberto sì è il nostro minimo comune denominatore in questo panorama molto eterogeneo di progetti e di viaggi ed effettivamente sì il primo progetto è il progetto passato ma insomma non è proprio corretto chiamarlo un viaggio nel passato perché è un viaggio in divenire che ho cominciato a fare con Roberto e che ho continuato a fare che continuo a fare un luogo d'affezione in cui torno ogni volta che posso anche perché io amo molto la montagna e quindi dico sempre che un buon umore mi arriva dai mille metri in su e il villaggio Eni di Borca si colloca tra i mille e i mille cinquecento metri sotto il pelmo scusate sotto l'antelao i 3200 metri dell'antelao ed è un viaggio di andata e ritorno che continuiamo a compiere che continuo a compiere in questo luogo straordinario che è innanzitutto come dire un progetto assoluto che va ben oltre la dimensione straordinaria dell'architettura e nasce incomincia questo progetto anch'esso poi con un viaggio un viaggio che Edoardo Gellner compie all'inizio degli anni cinquanta con Enrico Mattei il committente che commissiona a Gellner la realizzazione di questo grande villaggio vacanze per i dipendenti dell'Eni partono in macchina salgono nel cadore a Mattei è stato proposto di acquistare una grande area un grande pezzo di bosco sotto le pendici del pelmo nelle versanti diciamo nord del pelmo e Gellner dice no è meglio comprare è meglio costruire dall'altra parte in quello che è chiamato il serpaio questa frana questa appendice franosa sotto sotto l'antelao pochi sparuti alberi una pietraia però esposta verso sud Gellner convince Mattei a comprare e a realizzare lì il progetto progetto straordinario in cui Gellner in uno studio abbastanza simile a quello di Alvaralto un piccolo studio con pochi collaboratori costruisce centomila metri quadrati di edifici costruisce un bosco inventa il paesaggio le infrastrutture disegna tutto disegna il master plan dal master plan fino alle tazzine da caffè passando per tutti gli arredi gli edifici duecentottanta ville due alberghi la chiesa progettata insieme a Scarpa e soprattutto la colonia questo poderoso mostro di 25.000 metri quadrati fatto di padiglioni connessi tra di loro da rampe rampe che connettono i padiglioni e le rampe attraverso cui si percorrono i vari piani dei padiglioni stessi tutte queste rampe che poi noi abbiamo percorso correndo un giorno in cui abbiamo organizzato con degli amici questa Gelner Indoor Run 4 chilometri e mezzo di rampe che ci siamo divertiti a percorrere amici tra cui quello più importante certamente Gianluca Dinka Levis la storia di questo di questa di questa colonia è una storia di chiusura di apertura segue le vicende di tutto questo luogo questo luogo che a un certo punto viene chiuso viene acquisito da un investitore illuminato sardo che decide di aprire la colonia ad attività seppure la colonia sia ormai da molti anni in disuso Gianluca con progetto Borca che è come dire una parte di Dolomiti contemporanea questa associazione che lui aveva fondato qualche anno prima con l'obiettivo di rianimare di riattivare luoghi chiusi luoghi con grandi potenzialità ma luoghi in stato di abbandono entra all'interno della colonia accende le luci dell'auditorium questo faro posto nel centro diciamo della valle e con questo riapre la colonia la colonia che diventa luogo che è luogo di tante attività seppure in teoria sarebbe chiuso tante attività legate a residenze d'artista workshop eventi proiezioni il lavoro che abbiamo condotto con gli studenti dell'università di Padova di Odoardo Narn con Roberto Summer School che abbiamo fatto all'interno degli spazi della colonia la colonia è viva la colonia è aperta la colonia è luogo di studio ma è luogo vivo di progetto e l'arte contemporanea le attività degli studenti i progetti la rendono la rendono viva la rendono aperta anche alla comunità che ha sempre visto questo luogo come un luogo un po' distante sconnesso dall'abitato di Borca e poi Bossona ci sarebbe tanto da dire di tutti questi pezzi di questo progetto straordinario questa è la parte del camping nell'appendice nella vetta più alta diciamo della colonia quota 1500 progetto che si estende su 100 ettari è interessante andarci adesso perché dopo il passaggio dopo l'evento traumatico in qualche maniera della tempesta vaia che ha battuto tutti gli alberi che ha fatto sentire come se questo luogo fosse privato della della sua dimensione di paesaggio in realtà la cosa interessante è che attraverso la tempesta vaia è ritornato a quello stato in cui era stato consegnato quando era finito il cantiere si era cominciato le attività di ricettività per i dipendenti del leni questa è un'immagine dell'albergo la cosa interessante di Gellner la sua capacità di costruire architettura di costruire paesaggio ma di costruire comunità e anche la sua forza visionaria che cosa fa Gellner quando ha finito di progettare le sue progettare tutto ormai l'edificio il complesso ormai è da qualche anno in attività dice beh che cosa potrebbe succedere se un giorno non ci fosse più la colonia se non ci fosse più leni come potrebbe essere trasformato questo luogo facciamo conto che nell'ampezzano a Cadore si volesse nuovamente organizzare un'edizione delle olimpiadi e quindi si mette lì sul suo tavolo e disegna un progetto di trasformazione di tutti questi spazi per un ipotetico futuro evento olimpico cosa che effettivamente oggi sta succedendo e ora si sta lavorando sul progetto tutte quelle infrastrutture che dovranno essere realizzate per le prossime olimpiadi invernali tra cui c'è anche la necessità si parla di realizzare anche un centro logistico con gli spazi per la stampa il villaggio per gli atleti e via dicendo quindi si parla di costruire qualcosa di nuovo perché serve qualcosa di nuovo in realtà qualcosa di nuovo c'è già c'è già c'è già un edificio che è in attesa c'è già un progetto che è stato pensato per questo evento prima ancora che questo evento fosse assegnato a questo luogo e quindi questo è anche un un messaggio che mi piace che mi piace riportare il futuro in realtà anche questo è un viaggio che io ho già cominciato a compiere un viaggio letterario in un luogo in cui non sono mai stato ma anche questo è un luogo importante di affezione un viaggio letterario che passa attraverso questo libro che è stato per me forse il mio più importante libro di architettura di formazione continuo a esserlo un libro su cui io continuo a ritornare ad aprire a sottolineare e rileggere e anche questo è un racconto di un progetto che va oltre a quella dimensione dell'architettura è un progetto di costruzione anche questo di un luogo per una comunità insomma a Lugurna a San Fatì la necessità di realizzare alloggi per tutta quella comunità di tombaroli che aveva costruito le proprie case in forma spontanea direttamente sopra le rovine e quindi dalle case loro quasi scavavano per le tombe che stavano sotto i loro alloggi per depredarle ed era una condizione voglio dire di necessità e quindi la decisione poco dopo la fine della guerra di sgomberare tutti questi alloggi e di trasferire queste persone in una nuova in un nuovo villaggio in una nuova città di fondazione fine della guerra 45 e 46 l'Egitto manca tutto i materiali da costruzione sono veramente molto difficili da reperire il legname le putrelle il vetro a San Fatì è un architetto che ha una formazione una solida formazione di architetto modernista e si trova a confrontarsi con questo stato di necessità di necessità delle persone di necessità di costruire un'architettura che sia connessa con il luogo che si alimenti attraverso il luogo stesso e quindi da qui questo suo viaggio attraverso la tradizione costruttiva locale la storia dell'architettura egiziana i suoi viaggi per trovare quelle maestranze capaci di costruire con la materia del luogo finché riesce a trovare questi capimastri che avevano conservato la capacità di costruire le volte nubiane la prima cosa che fa in questo viaggio in questo progetto è costruire la fabbrica di mattoni attraverso cui si costruiranno tutti gli edifici del villaggio di Nugurna e poi questa straordinaria capacità di lavorare con il niente ma con materie sofisticatissime lavora con le leggi della fisica ed è questa una cosa di cui avevo poi parlato recentemente anche con Martin Hauer che è il fondatore di TransSolar che è lo studio di progettazione di sistemi sostenibili forse più noto e raffinato al mondo loro lavorano con i più grandi architetti viventi però cosa dice Martin Hauer io lavoro con la sofisticatezza della tecnologia ma lavoro soprattutto con la sofisticatezza delle leggi della fisica qui c'è Bernoulli e attraverso le leggi di Bernoulli costruisce un sistema climatico straordinario come lo racconta poi anche Charles Correa che si era considerato e si considerava virtualmente una sorta di allievo lontano di Hassan Fatih e quindi quella capacità di costruire con il clima e il clima è la base attraverso cui pensare l'edificio l'orientamento la posizionamento delle finestre tutti quei sistemi di raffrescamento naturale la tradizione dei Badkir che viene ripresa in questo progetto le torri del vento i principi del basement cooling tutte cose che appartengono a una storia millenaria che si rinnova in questo progetto che è un progetto moderno ma è un progetto senza tempo al contempo diciamo insomma poi la ricchezza la raffinatezza delle tante soluzioni insomma poi il progetto viene abbandonato in corso di realizzazione poi è stato variamente trasformato gli edifici più importanti sono rimasti sostanzialmente inalterati e quindi quasi come dire da parte mia una ritrosia andare in questo luogo letterario che insomma in qualche maniera è fissato in queste in queste foto degli anni 50 realizzate da alcune delle quali realizzate a San Fattì stesso però in realtà anche come dire questa esigenza questo desiderio di respirare l'aria che attraversa questo luogo di sentire il calore dell'esterno la frescura degli ambienti interni i rumori gli odori perché poi sono tutte quelle dimensioni dell'ineffabile che appartengono alla grande architettura grazie grazie Simone questo è un viaggio che assolutamente voglio fare anch'io ti avevo segnalato l'altra settimana se non sbaglio abbiamo fatto un webinar con Viola Bertini che Uav sempre di Venezia un dottorato su Assafati è stato molto profondo come confronto con l'università e a questo punto abbiamo Alfonso che lui sì che viaggia è veramente tornato a viaggiare per lavoro oggi è in Francia ma appunto grazie a questa scoperta del 2020 la tecnologia a servizio dell'uomo Viaggio nel passato è un viaggio in un tempo come successione di presenti è una scelta che fa parte già del viaggio che ho fatto nel passato ovvero quella in cui lentamente ho incontrato Genova come città e il suo territorio non essendo io genovese questo incontro fa parte di un viaggio un viaggio primisi di vita ma poi è diventato un viaggio sempre più mentale immaginario di scoperta di esplorazione di continua relazione con la città che proprio perché è stata scelta da me come luogo da cui partire e tornare sempre c'è un rapporto molto diretto c'è un rapporto che in qualche maniera potrei dire a distanza di anni è di un luogo che insegna insegna con i suoi silenzi con le sue introversioni con il suo continuo cambiare il punto diciamo con cui si possono leggere le cose ed è veramente la mia città invisibile a un certo punto di vista nel senso che è una città che proprio perché non ha codici o non ha ossiliaria molto nascosti è qualcosa a cui difficilmente io posso rinunciare quindi è un passato presente ma che sarà sempre futuro mi auguro e che quindi mi piace anche questa condizione rinunciabile che lega molto il tutto a un rapporto con il tempo io spesso dico noi siamo tempo e questa condizione di non essere tempo si lega proprio ad un'idea di viaggio dove il viaggio può essere veramente anche perdersi in poche decine di metri tra una condizione estremamente urbana e una collettiva e una molto più più intima Genova poi una molteplicità di paesaggi Genova è indefinibile Genova tutti la conosciamo o nell'immaginario è percepita come città di mare quindi con la sua cascata ed edificio verso il mare in realtà è una città anche di collino di appennino quindi nella stessa modalità la natura lì ha fatto ho creato una condizione estremamente forte tra queste due anime ed è anche interessante che però la percezione della maggior parte delle persone sia di un certo tipo di città mentre l'anima cadendoci dentro è un'altra quindi vi invito a entrare in queste immagini che possono essere una città tante città tanti immaginari tante realtà è una storia sempre vissuta pienamente come Genova e Genovese hanno sempre fatto se penso al futuro al luogo dove mi piacerebbe sognare di andare che in stretta connessione anche con questa idea quasi di geografia dell'idea del viaggio mi piacerebbe fare quasi contestualmente nello stesso momento in continuità un viaggio di scoperta del polo nord e del polo sud dei due estremi diciamo della terra dove tutto si va a sintetizzare però è un tempo dove tutto diventa ancora più potente ancora più assoluto oggi più che mai per esempio sintetizza la grande fragilità in cui ci troviamo e forse un tema quasi arcaico forse ancestrale quasi nell'andare nell'origine però quasi penso immagino che lì quel viaggio possa far comprendermi ancora di più altre cose che magari ho incontrato viaggiando dentro l'umanità i luoghi antropizzati le città e i territori ecco lì c'è quasi come dire una condizione di dissolvenza di alcune cose per poi ritrovare la forza della natura che li diventa proprio soprattutto dove gli abitanti forti di quei luoghi sono animali straordinari fondatori come spesso sono in quei luoghi abitati da baleni o cetaci di quella natura ecco così come per completare mi piacerebbe immaginare che ci sia un percorso come se possano promenare a continuo lungo l'equatore che è un modo per attraversare in una linea comune e mediana tra questi due grandi luoghi come il Polo Nord e il Polo Sud la possibilità di incontrare territori molto differenti fra di loro ma che sono posti sulla medesima linea e che sicuramente raccontano anche lì un'idea di umanità quindi il futuro forse è l'idea di un viaggio lento silente calmo ma sempre basato su un'idea di scoperta di maraviglia che nel passato ho ritrovato in una città estremamente piccola ma estremamente grande che ha sempre saputo vivere il suo tempo come Genova una scelta esigente non sarà semplice soddisfare questo triplice giro del mondo soprattutto l'Equatore però ci stiamo lavorando e chissà chissà ora lasciamo appunto a Simone Gheduzzi di Verserico Studio Buon pomeriggio prima di ogni cosa devo ringraziare Margherita perché mi aiuterà e quindi vi racconto perché mi aiuterà perché quando Elena e Roberto ci chiamano a partecipare a questi momenti in studio lo prendiamo come un momento quasi di introspezione e quindi anche questa volta è capitato che noi tutti assieme non solo noi soci ma tutti gli architetti che lavorano con noi hanno posto delle domande ed è diventata effettivamente una scrittura collettiva e quindi ho visto che rappresenta tutti mi sento che sia la cosa giusta per una volta leggere non è mi usanza farlo ma in questo contesto e per questo motivo ritengo che sia una cosa giusta responsabile e doverosa e allora inizio allora intanto viaggio l'abbiamo inteso come qualcosa sia che si conserva e sia che accresce attraverso il cammino che è la nostra vita che è anche appunto la nostra vita professionale non è principalmente un viaggio fisico ma è un viaggio nel ripetersi di un continuo vuoto che come architetti abitiamo e che ci porta appunto a conoscere il mondo attraverso il progetto e attraverso i progetti che ad esempio ci hanno fatto vedere gli amici che ci hanno proceduto quindi le sole due immagini che vi mostriamo sono luoghi metaforici innanzitutto nel caso del deserto marocchino che fotografato da trei è anche un luogo visitato ma almeno 15 anni addietro e perché vi mostriamo diciamo il deserto perché abbiamo fatto un lavoro prima della forma lavorando tutti assieme abbiamo cercato di capire da dove veniamo verso cosa andiamo e cosa che ci muove appunto in questa ricerca continua che facciamo attraverso il nostro viaggio e in questo caso esso suscita in noi emozioni molto contrastanti perché da un lato ci spaventa ma dall'altro anche però ci incuriosisce con il suo mistero e quindi il deserto rappresenta il grande vuoto che ci siamo trovati a fronteggiare tutte le volte che ci siamo avvitinati a nuovi progetti e quindi il vuoto di cui parliamo è proprio un vuoto di conoscenza e solo grazie ad un'attenta osservazione ad un profondo studio ci permette di raggiungere quella conoscenza e padroneggiare questo vuoto abbiamo la necessità di riempirlo e di dargli un nuovo senso una volta identificato il senso il progetto prende forma e tanto è più profondo il senso tanto più il progetto a nostro avviso è centrato quindi per noi significa che la caratteristica comune tra viaggio e progetto è che entrambi appunto lo ripeto ti permettono di conoscere il mondo l'immagine diciamo successiva invece è quella del futuro in cui se rivolgiamo l'immagine appunto al futuro potremo vedere la stessa cosa che spesso abbiamo visto guardandoci indietro c'è l'imprevedibile un altro vuoto da conoscere e per questa ragione abbiamo deciso di presentarvi qui la foto di un buco nero e nello specifico di quello che viene chiamato orizzonte degli eventi l'orizzonte degli eventi una volta che viene superato che è quella corona in forme che vedete fotografata per la prima volta nel 2017 è ciò che accade alla materia e può essere imprevedibile anche in questo caso potrebbe volare le leggi dello spazio-tempo che conosciamo e allora questo curioso non sapere motivo di continuo studio da parte della comunità scientifica mondiale che cerca continuamente come abbiamo detto prima per il passato attraverso un'attenta asserruzione e uno studio profondo di raggiungere quella conoscenza abbastanza a poterlo pradroneggiare questo vuoto ancora di riempirlo ancora di dargli senso di prevedere il futuro di interpretarlo ci sono dunque delle assonanze tra la memoria del deserto abitato e la previsione di raggiungere un buco nero e questo muoversi dal nulla verso il nulla che è il motivo del nostro viaggio anche come architetti che sperano di affrontare nuove sfide per conoscere nuove persone nuovi luoghi nuove culture nuovi ambienti e quindi concludendo c'è scritto proprio conclusione esiste però un altro punto di contatto tra la memoria e la previsione che è quello che potremmo chiamare un po' come nel terzo paesaggio il terzo nulla e che è l'unione appunto tra il passato e il futuro e sembra infatti che all'interno di un buco nero lo spazio assuma una densità tale per cui non vi sia più il tempo ci sia solo lo spazio il posto ideale per un architetto ossia quello che comunemente lo spazio lo immaginiamo come un rettangolo diventa un punto e fa coincidere tutti i tempi di percorrenza che sembra si possano annullare al suo interno e allora lo stesso modo e ognuno naturalmente a suo modo penso che qui ognuno di noi avrà modi diversi è quello che viviamo nell'atto creativo cioè quando prima di fare architettura siamo architettura un po' come la Pina Bausch quando danzava era la danza un po' come Beethoven quando suonava era la musica in quella creazione del terzo nulla in cui il tempo non esiste riusciamo in quel momento in quell'attimo trasformare le idee in forma allora viaggiare per noi è la ricerca di quel vuoto da riempire in cui è possibile l'espressione ma bisogna conoscere il deserto e vedere questo orizzonte degli eventi grazie grazie Simone e grazie a tutto il tuo studio Nicola Gabriele tutti i ragazzi perché è un contributo preziosissimo perché chissà mai ci venga la voglia di fare un libro sul viaggio e quindi viaggiare come studiare ora passiamo a un altro video a Cino Zucchi che avete avuto modo negli small talks di conoscere attraverso la sua architettura ma ormai è un architetto che è entrato a casa di tutti attraverso i suoi racconti e questo sarà diverso dagli altri e durante l'educazione architettonica che lunga è difficile perché l'architetto un po' in senso leonardesco deve sapere un po' di tutto dalla matematica alla fisica l'arte e così via è una delle discipline più inclusive e che in ogni caso dialogano con tante questioni uno si trova ad avere dei problemi o dei dilemmi proprio durante proprio leggendo di libri guardando opere di altre persone e così via di fronte a delle antinomie che sono proprie della nostra disciplina non si è ancora capito se l'architettura sia un'arte o non la sia c'è stato anche un dibattito se l'arte dell'architettura fosse se fosse un'arte allografica o autografica e qui apro e chiudo l'argomento cioè se sia un'arte svolgibile totalmente dal proprio autore come diciamo una pittura una scultura o invece sia passibile di interpretazione come un brano musicale che un direttore d'orchestra può interpretare in maniera diversa o un pezzo teatrale di fronte a questi dilemmi quelli in cui io mi sono trovato da studente sono tanti ma ne penso a due o tre di questi dilemmi per esempio il rapporto tra l'architettura come oggetto astratto come concetto tridimensionale che ha bisogno la sua concezione diciamo di essere non voglio dire un'idea platonica ma qualcosa che ruota nello spazio come un solido come fosse un icosaedro per cui ha una dimensione di geometria pura e invece la sua dimensione costruita più propriamente materica il progetto deve avere un'astrazione passa per forza attraverso un'astrazione se no costruiremmo le nostre case quasi semplicemente come un'orale disponendo delle pietre sul terreno in realtà c'è una separazione progetto esecuzione che è tipica del mondo moderno dove uno prefigura il progetto vuol dire gettare in avanti prefigura un oggetto che non esiste ne stabilisce attraverso dei disegni delle istruzioni per l'uso e finalmente pian piano attraverso un processo molto lungo che implica molte persone lo vede costruire ogni volta che vado in cantiere molte decisioni sono prese in cantiere però pian piano si materializza diciamo il disegno lo schizzo iniziale questo dilemma potremmo dire astrazione materia è uno dei principali ci sono architetture che vorrebbero essere assonometrie e architetture invece dove anche poeticamente la materia è tutto penso rapporto tra i primi progetti di Peter Heisman e non so un ridolfi un Mario ridolfi italiano che disegnava anche il serramento la pietra si sente proprio un elemento quasi corporale nel maneggiare questi elementi l'altro grande dilemma è quello potremmo dire tra domesticità e monumento l'architettura ha anche dei valori astratti la proporzione l'auritmia la simmetria però di fatto è lo sfondo quotidiano della nostra vita e evidentemente esiste un tema anche durata intesa come congelamento di una struttura di un'ordine spaziale che poi sottoposta a un uso che noi non possiamo completamente prevedere il fatto che oggi noi parlo di Milano l'Accademia di Brera è dentro nell'ex collegio dei Gesuiti piuttosto che l'ospedale maggiore è diventato l'università statale e ospita il fuorisalone e il salone immobile sono un classico caso dove uno spazio che ha delle sue caratteristiche in questo caso una corte monumentale proprio in base a questa sua quasi invariabilità o perentorietà dello spazio si presta a usi diversi mentre i centri commerciali dopo dieci anni devono buttarli giù in altre parole permanenza versus cambiamento tutte queste antinomie che talvolta si pongono come opposizioni dilemmi veri e propri tu poi trovi delle architetture che le mettono insieme la meraviglia di alcuni capolavori di architettura è non avere questi come due poli dove uno fa male all'altro ma una specie di vibrazione dove essi stanno insieme la casa Escher di Louis Kahn è molto astratta nella sua forma ma questa meravigliosa diciamo stanza abitabile dall'interno con una finestra di legno che diventa panche camino cioè proprio questo elemento proprio di domesticità molto forte mentre invece anche un cubo astratto e così via in tutto questo lungo percorso uno degli edifici che forse a me visitato in gioventù mi ha più impressionato è stato l'addizione al municipio di Göteborg in Svezia di Gunnar Asplund che è uno dei migliori forse il più grande architetto non l'unico evidentemente del secolo scorso della Svezia una persona che ha una biografia lunga che è passato da quasi una specie di neoclassicismo nordico molto astratto talvolta che aveva qualche elemento anche del novecento italiano ci sono certe analogie oggi con Muzio con altre cose ma con una specie di grazia ed eleganza più forte fino invece ad avere un'architettura del tutto potremmo dire anche dentro in quello che oggi chiameremmo funzionalismo razionalismo ma sempre con un tocco di poesia di dolcezza talvolta sconosciuto a quelle più forti nel 25 1925 Asplund incomincia a pensare alla piazza al municipio di Göteborg che è di fatto un grande paesone e fa dei progetti di addizione a un edificio che era neoclassico in perfetto stile neoclassico quasi continuando nella facciata aveva anche progettato una piazza degli altri edifici in realtà non c'era il budget ma verso gli anni 30 mi sembra verso il 35 o il 37 elabora questo progetto e lo fa diventare nel linguaggio sempre più potremmo dire moderno proprio nel linguaggio nel senso che utilizza una struttura diciamo di un telaio a vista che è un diciamo non solo un elemento costruttivo ma è un dispositivo del linguaggio retorico di gran parte del razionalismo e funzionalismo quasi il telaio come espressione a sincerità pensiamo forse nei paesi nordici quanto lo scheletro di cemento è diventato araldo di questa nuova architettura e anche invece come magari un terragnide a casa del fascio lo usa rivedendone alcuni elementi quasi monumentali per cui evidentemente lo scheletro e il telaio sono una delle grandi figure del nuova architettura opposta agli stili e capitali corinzi ma anche come hanno accezioni diverse Asplund parte da questo edificio con un fronte nel classico con un timpano gli aggiunge nell'ultima versione del progetto un prospetto moderno ma che ha tutte le scansioni verticali che riprendono tutti i fili per cui non è un telaio astratto e da piccole accezioni dei giunti tra di astrazione della trave del pilastro per esempio all'ultimo piano c'è come un corto a 45 gradi che evoca un capitello ma non lo è e impagina tutte le finestre invece che in mezzo a questo telaio accostandole in questo caso sul lato che darebbe verso l'edificio esistente questo genere una sorta di centratura del prospetto e addizione è come se uno si voltasse verso l'edificio vicino e riconoscesse in lui il centro come gli attori c'è l'attore la spalla in certi comici o in certe coppie diciamo che è un edificio che ha una sua dignità ma sta facendo sempre allusione al suo originale che è le corte di giustizia esistenti al piano nobile introduce non solo delle finestre molto astratte ma anche dei pannelli scultori in basso rilievo per cui affronta il tema diciamo della decorazione moderna ma si rende conto che di fronte a quel tipo di piazza a quel tipo di istituzionale storico non si può essere completamente defigurato la mamma di Ornella Vanoni diceva un filo di tacco un filo di trucco penso con l'eyeliner per cui tra la nudità del razionalismo e funzionalismo e invece il trucco degli stili eclettici potremmo dire che un filo di tacco un filo di trucco potrebbe essere qualcosa che ammette l'accessità di un po' di decoro ma senza esagerare entrando in questo edificio si entra in un vasetto di miele è meraviglioso c'è una grande rivestimento di legno di colore caldo con una struttura che ancora si presta nuda e un continuo contraltare tra elementi disegnati benissimo Asplum disegna fino all'ultima poltrona sedia c'è un ascensore meraviglioso dentro un scheletro di metallo sottile all'interno dell'atrio che fa tutte le altezze completamente vetrato c'è una scala anche lì disegnata che ha un elemento strutturale e un grande orologio e così via giù giù fino alle sale alle sale udienza le sedie potremmo dire che ai miei occhi questo edificio è il simbolo di una sorta di civismo in inglese dicono civil servant il pubblico c'è è un edificio istituzionale ma che al contrario dei palazzi di giustizia italiani di piacentini quando vediamo i telegiornali con questa monumentalità le colonne severi sta anche avendo un'idea di entrare di essere tutelato dallo Stato ma è welcoming è una specie di casa collettiva per finire questo primo edificio che ha lasciato un segno in me molto profondo Asplund alla fine del progetto ha fatto intessere una specie di grande arazzo con tutte le iniziali di tutte le persone che vi avevano lavorato dalle sue iniziali c'è Gunnar Asplund c'è quella c'è una specie di martello c'è un epinco simbologio e sostanzialmente un arazzo con i nomi fino all'ultimo muratore recentemente ho quasi proposto a mio cliente perché non facciamo lo stesso questa idea corale che anche nei ruoli diversi l'architetto lavora insieme al capomastro quasi da diciamo da architettura medievale per cui un'architettura pienamente moderna pienamente urbana per cui il moderno è stato spesso suburbano accogliente disegnatissima e anche però astratta in altre parole non mi ha risolto tutto della vita ma per me è stato un grandissimo insegnamento di architettura e gli architetti poi viaggiano molto devo dire che io spesso di che miei studenti l'Europa è un posto meraviglioso perché col sacco diciamo sacco a pelo in spalla basta fare 100-150 km che sei di fronte a paesaggi bellissimi è come se l'intera Europa fosse un grande libro aperto d'architettura Gio Ponti addirittura diceva dell'Italia l'Italia è stata fatta metà da Dio e metà degli architetti bellissima espressione quasi con l'orgoglio di avere toccato addirittura una dimensione geografico paesistica questo rapporto tra geografia e paesaggio tra l'elemento quasi di terribilità di certi scenari naturali la Patagonia l'Islanda il Vatna Yokul per cui non c'è dubbio che c'è un sublime naturale che talvolta amiamo talvolta ci incute quasi terrore e invece c'è una sorta di sublime architettonico di città labirinte come Venezia o New York e anche l'unione delle due potremmo dire che alcune architetture hanno il coraggio di confrontarsi con scenari naturali ma anche in un certo senso diventarne parte di questi posti che a me hanno più toccato nel profondo che ho visto sono forse Petra quando uno arriva alla fine di questo canyon e si vede la grande facciata consumata che è fatta della stessa sostanza per cui dentro una colonna sono tutti gli strati geologici certamente Palmira recentemente parzialmente distrutta dai talebani con queste colonnate incredibili in mezzo al deserto e un altro che forse ma veramente impressionato è Angkor Wat scena di Lara Croft ma delle grandi montagne artificiali diciamo sembra che Angkor Wat in un certo momento la storia del mondo avesse io ho letto non so se è vero il 30% della popolazione mondiale i Khmer era una civiltà noi quasi sconosciuta ma che di fronte a queste montagne di pietra meravigliose mangiate dalla giungla uno si rende conto di avere l'intero bagaglio dell'alfabeto di moda nature per cui come io saprei leggere benissimo un tempio greco ti so parlare della stragola del toro della gola dritta della gola rovescia so fare un'anatomia perfetta del linguaggio classico greco e latino ti rendi conto un'altra lingua un geroglifico che ha tutti i caratteri di raffinatezza e di sistematicità della lingua che io non conosco è come vedere una grande iscrizione che non so leggere ma capisci della stessa potenza rilevanza e forza di quella che noi abbiamo uno di questi posti che ancora invece non ho visto è alcuni lo chiamano paghan altri altri baghan in birmania era in fondo nello stesso periodo dei Khmer un'altra grande civiltà la capitale di questa civiltà di paghan che dopo distrutta dai mongoli di Kublai Khan intorno al 1200 perché non soggiaceva al loro imperio e adesso ho visto foto alcuni amici sono stati è un'immensa valle di 30-40 km con la giungla e in mezzo ad essa ci sono migliaia di stupa che emergono perché tutta la parte di legno naturalmente la città è andata completamente persa e sono rimasti come uno scenario veramente da Star Wars come quei film di fantascienza o da Signore degli Anelli una grandissima valle con queste stupa dove le stupa sono delle montagne artificiali che riconosco fatto da mano dell'uomo ma hanno qualcosa della conchiglia qualcosa della stalattite e questi momenti dove la grandezza e la cività umana in forma anche di rovina si confronta alla natura sono i posti non che danno delirio di potenza agli architetti evidentemente esiste poi l'Egitto tanti altri posti così ma dove architettura e natura diventano una cosa sola e dialogano in una maniera quasi sublime vorrei prima di morire vedere Pagan o Bagan affascinante l'intensità il trasporto di Cino che ci ha fatto viaggiare a occhi socchiusi e quindi sicuramente faremo onore al suo desiderio perché appunto è penso comune di molti qui in sala ora passiamo a Margherita Manfra prego grazie grazie Roberto grazie Elena grazie a tutti i presenti molto sinteticamente pensavo di aver fatto una scelta radicale Simone sicuramente mi ha battuto da questo punto di vista anzi mi ha aperto la strada e l'immagine non è delle migliori ma è quello che basta questa è Place Léonacoc a Bordeaux luogo nel 1996 che la municipalità decide di riqualificare forse oggi si direbbe rigenerare e chiamano la Catone e Bassal la Catone e Bassal vanno in questo luogo ci passano una giornata cominciano a parlare un po' con le persone lo osservano e fondamentalmente la loro risposta è che questo posto non ha bisogno di un progetto né di un intervento se non di una manutenzione ordinaria questa piazza è una piazza pianta triangolare sterrata come si usa tuttora nei posti più piccoli in Francia delle panchine l'illuminazione una misura delle abitazioni che ne fanno i limiti quindi diciamo uno spazio che ha già tutto quello che gli serve e ha quella possibilità di interpretazione e quindi di utilizzo libero che effettivamente uno spazio pubblico deve avere allora prima si raccontavano un po' le esperienze di studio mi fa piacere anche trovare tanti punti in comune con le presentazioni precedenti Fiorenzo con cui forse ci giochiamo gli antipodi delle generazioni in questo palco diceva prima riguardo alla muscolarità dell'architettura io sono pienamente d'accordo io i miei colleghi tutti lo studio siamo laureati da meno di dieci anni quando abbiamo studiato all'università il tema dello star system dell'architettura era proprio un momento di ipertrofia massima quindi diciamo quello che si vedeva in giro per il mondo e quello che si studiava aveva scale rapporti economici rapporti diciamo anche di separatezza rispetto ai contesti enormi quindi ecco questa fu una rivelazione enorme l'idea che un architetto possa con la sua professionalità con la sua osservazione con il suo capacità arrivare a dire a un'amministrazione pubblica che forse il progetto non deve essere un progetto in questo caso per noi è stata un'esperienza sicuramente segnante sul futuro diceva poco fa Cino Zucchi sul rapporto con il contesto naturale ecco questo sicuramente è un contesto naturale molto artificiale adesso abbiamo a che fare siamo a Berlino questo è un bacino di raccolta delle acque piovane che sta al bordo di Temple of Temple of era l'aeroporto costruito nell'epoca nazista che poi è stato abbandonato e che diciamo prevedeva uno sviluppo della città che è stato invece fermato attraverso un referendum popolare nel 2014 quindi innanzitutto il tema dell'utilizzo dello spazio pubblico e della matrice politica di questo tipo di interventi questo è Raumlabor Berlin è uno studio berlinese che ormai sono variati decenni che lavora su questi temi e materializza in questo spazio la floating university quindi è un luogo di apprendimento è un luogo di costruzione collettiva è un luogo dove fondamentalmente l'inserirsi in un luogo così anomalo della città lo cerca di valorizzare e cerca di convogliare all'interno tutta una massa critica da una parte di università quindi di ricerca di professionisti e di studiosi e dall'altra di accogliere la cittadinanza con un programma culturale con un programma di attività e di eventi e la cosa molto particolare è il carattere chiaramente si vede anche dall'immagine che è il carattere effimero il carattere un po' provvisionale il tema è come abitare i luoghi e cercare di fare esperienze che abbiano molto meno a che fare con la forma e molto di più a che fare con la costruzione di nuovi modelli dell'abitare collettivamente e abitare all'interno del pianeta e potrei parlare moltissimo insomma sicuramente c'è molta affinità tra come era un labor lavoro e quello che poi è stata la pratica di orizzontale del mio studio però appunto questo è un esperimento nato nell'estate del 2018 in cui questo bacino era praticamente arido perché ha piuuto molto poco durante quell'anno invece è un paesaggio mutevole e anche il progetto ha avuto delle mutazioni significative doveva essere smontato nel giro di una stagione e invece proprio per il successo e per la quantità di energie che sono state raccolte intorno a questo spazio ha continuato a crescere ha continuato a trasformarsi fino a che quest'anno adesso recentemente ha vinto diciamo nella sua installazione nel suo racconto che è stato fatto nell'arsenale nella Biennale di Architettura a Venezia è stato insignito del leone d'oro la cosa che forse vi posso raccontare che ha fatto molto specie è come hanno accolto loro questo premio hanno detto noi siamo molto abituati a ricevere i secondi premi perché il secondo premio è quello che si dà alle cose visionarie che poi non hanno possibilità di essere realizzate e invece in questo caso vuol dire che forse un primo premio è perché ci può essere un'attuazione una realtà di tutte queste esperienze stessa cosa vale per il progetto precedente che è sicuramente un progetto marginale di tutta la produzione di Lagatonne e Vassal in quel momento in cui fecero quel lavoro ormai 30 anni fa era un progetto di uno studio ancora comunque emergente o comunque emerso da poco oggi quest'anno vincono il Pritzker Prize quindi ecco diciamo c'è spazio per queste cose può essere sicuramente un modo diverso per vedere l'architettura non sono esempi che fanno della forma il loro carattere è più importante ma è proprio come guardare le cose come guardare i territori e come fare esperienza poi del vivere il cielo interno grazie 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 Margherita e viva questo salto generazionale che è fondamentale speriamo determinante per il nostro pianeta proprio tema attualissimo di pochi giorni fa qui in Italia ora da Berlino Bordeaux-Berlino passiamo a Somma Campagna come si definisce sempre Filippo con la sua compagna che è qui in sala architetto di campagna con la dimensione del territorio del luogo ma come con la conoscenza del mondo che è determinante per poi scaricarla tutta sul territorio prego Filippo grazie Elena grazie Roberto dell'invito a noi ci stupisce sempre essere in questi contesti perché facciamo queste architetture proprio nei nostri territori e ci sentiamo un po' fuori luogo in queste situazioni un po' così più più collettive diciamo e ci sono architetti che sono architetti viaggiatori architetti nomadi che viaggiano per il mondo e portano nel mondo il loro sguardo uno sguardo che sa leggere la contemporaneità abbiamo visto alcuni casi e anche Margherita ce l'ha fatto vedere poco fa e che e che sanno in un certo esempio solo anche a leggere il futuro hanno delle antenne particolari in cui riescono ad anticipare il futuro e poi ci sono degli architetti stanziali ecco Francesca e io siamo sicuramente degli architetti stanziali il nostro obiettivo è quello di situarci di situarci sempre di più e le domande che ci poniamo ogni giorno sono da dove costruisco da dove parlo da dove disegno c'è un concetto di radicarsi in un fortemente in un in un territorio e diciamo che c'è che c'è una linea che collega questo piccolo mondo che ci portiamo attorno che ci portiamo in tasca negli occhi nelle mani nei nostri quaderni che sono le colline moreniche del lago di Garda e che collega questo mondo al nostro pensiero progettuale e non ci dobbiamo neanche sforzare di farlo perché è una sorta di destino dei fatti degli effetti che ci spinge a essere ancorati a questo territorio questo non significa che non ci piace viaggiare mentre pensavo queste cose ho appoggiato dei disegni è che noi quando viaggiamo viaggiamo per situarci ancora di più perché raggiungendo questi luoghi in realtà è un modo per infilare in maniera ancora più profonda le radici nel nostro territorio è questo che cerchiamo di fare ed è questo che ci siamo accorti che abbiamo fatto allora questo è un compendio diciamo di alcuni luoghi che sono nel tempo prima entrati nei nostri occhi poi nelle nostre mani poi forse sono stati dimenticati poi sono riemersi e poi sono diventati progetti a volte in maniera diretta a volte invece in maniera differita strana li vediamo il museo di Castelvecchio la Beckerhouse di Averalto la casa di Galfetti il memoriale di campo di Edvard Ravnikar sull'isola di Rad il cimitero di Stoccolma la chiesa di Klippan e poi Canlis di Juzzo ma solamente una particolare stanza di Canlis di Juzzo allora li vediamo sono delle piccole storie veloci io sono il professore di storie della chituratura contemporanea Roberto Masiero ci dice scegliete un'opera allora Francesca ha scelto la Lossaus e Michele Plaz di Adolf Loss e io ho scelto ovviamente Carlo Scarpa e il museo di Castelvecchio l'ho scelto anche per larga un po' mitologica perché quando ero piccolo avevo 11 anni 15 anni c'era il professor Rudy che era un che allestiva delle mostre proprio nelle ville di fianco a casa mia che erano delle mostre organizzate da mio padre e mio papà diceva vai lì a vedere e si sentiva questo nome Scarpa e quando sono entrato a Castelvecchio siamo stati un giorno intero con un amico che era dotato di una reflex che era una cosa incredibile in quel momento era un bravissimo fotografo e abbiamo fotografato toccato e quello che è successo alla fine di quel giorno sono uscito dal museo di Castelvecchio e vedevo delle cose che non avevo mai visto vedevo gli intonaci le pietre i cornicioni cioè avevo imparato a vedere e nel tempo ho capito che avevo imparato a vedere perché tutto questo luogo era un'interpretazione critica ogni cosa era un'interpretazione critica era la proposta di un giudizio di un giudizio di valore su una stratificazione storica un giudizio di valore sulla collocazione di un'opera d'arte e dunque quando tu entri dentro questo meccanismo se dimentichi i scarpe dimentichi i scarpe dei dettagli o questo scarpe che sappiamo che lo scarpe ha sbagliato dimentichi tutta questa cosa alla fine capisci che sono delle macchine che ti pongono una domanda allora tu vivi questo luogo come una domanda e noi questi luoghi sono dei luoghi noi quelli che vediamo sono dei luoghi noi come domanda cioè non come elemento chiuso e un altro e questo sono io il giorno della visita avevo un po' più di capelli e poi questa cosa è è entrata in questo progetto che poi abbiamo avuto l'occasione di fare di sistemare l'ala est di Castelvecchio attuando sempre questi meccanismi narrativi di anticipazione e negazione che avevamo imparato nell'opera mi ricordo perfettamente quando ho visto l'immagine di sinistra ero in un aula dei Tolentini all'ultimo piano era proiettata su un acetato come si faceva a quei tempi dunque i contrasti delle luci erano ancora tu non hai fatto in tempo vedere gli acetati ma erano così e si proiettavano gli acetati sulla lavagna luminosa e ho visto questa immagine che mi ha colpito però è rimasta in maniera un po' latente diciamo dentro come una cosa carsica e poi nel tempo è emersa due fattori principali di questa casa questa finestra che rifiuta di essere rapporto alluminante che rifiuta di essere facciata che rifiuta di essere qualsiasi cosa se non una cornice per inquadrare il mondo una cornice che per dare senso alle cose e poi questo taglio di luce che entra dentro in diagonale sulla parete scabra dura 15 minuti ha solo quello scopo e quando hanno chiesto a Jutson in un bellissimo libro perché lui dice la vita è breve la felicità è breve e bisogna saperla cogliere e allora un giorno sono andato eravamo con degli amici a Mallorca io ho preso ho cercato la casa non c'erano ancora adesso questi satellitari sono stato un po' incerto non sapevo se entrare vedevo che era abitato a un certo punto ho bussato e sono entrato e gli ho detto guarda io devo fare una cosa devo sedermi su quel divano per un'ora o due se fosse possibile ma alla fine non erano i proprietari ma stavano facendo un workshop all'università di Barcellona per cui mi hanno fatto prego e dopo questa cosa è rientrata in tanti progetti per esempio Villa Sacomani questo raggio di luce che c'è il raggio della mattina proprio nella zona in cui si fa colazioni che ogni giorno ti porta dentro questo ciclo della natura è una sorta di buongiorno e poi il raggio della sera che entra nello stesso edificio da questa finestra ma un taglio palladiano che attraversa l'edificio e che porta la campagna dentro il bolo di questa villa veneta e la luce penetra all'interno e terzo il mio memoria di campo sull'isola di Ravnica era un allievo di Plecini che aveva disegnato tutti i dettagli della biblioteca di Lubiana e noi abbiamo fatto questo questo abbiamo iniziato a lavorare su un tema per il dottorato con il professor Luciano Semerani a cui chiederai magari un piccolo tributo che è venuto a mancare proprio giorni fa una persona di straordinaria incredibile intelligenza e capacità interpretativa io mi ricorderò sempre questi occhi che ti guardavano e ti facevano una radiografia e a un certo punto io pensavo di fare una ricerca su quegli architetti anfibi quegli architetti che nel novecento avevano avuto percorsi diversi dall'autodesia del movimento moderno lui dice no studia quest'opera e alla fine per una coincidenza pazzesca siamo venuti a sapere che la famiglia di Francesca aveva la possibilità di avere proprio una casa su quest'isola per cui abbiamo passato alcune state a ridisegnare e l'idea qui che abbiamo capito è quella di un'architettura all'imperfetto di un'architettura senza tempo l'imperfetto come forma verbale cioè quel momento in cui tu decidi di raccontare un fatto in un tempo indeterminato ci ricordiamo leggiamo in quel periodo l'olissaggio di Umberto Reco su Nerval parlando proprio di questo tempo all'imperfetto si può descrivere l'architettura all'imperfetto e abbiamo cercato di farlo nella Cantina Gorgo che è praticamente la nostra opera prima un'architettura senza tempo fatta in pietra fatta di squarci di taglie di luci di ombre e soprattutto di penombra e poi sempre per una serie di coincidenze con Francesca questi siamo io e lei all'università siamo andati quando eravamo con l'università siamo andati a trovare mia sorella che lavorava al MIT e abbiamo avuto la possibilità di vedere la bella Becker House e ci ha colpito questi mattoni messi senza cernita questa idea di questo di age in advance si diceva in un saggio e ci è venuto in mente che i nostri muri moreni c'erano fatti così i nostri muri del nostro territorio che gettavano queste ombre queste luci allora questa idea di un altro materialismo un materialismo positivo un materialismo che potesse portare avanti questa gigantesca storia d'amore che è nel Mediterraneo tra la materia la luce e l'ombra e le superfici e questi sono alcuni esempi che abbiamo fatto e poi penultimo incontro ma forse pazzesco quando siamo stati su questa isola greca abbiamo cercato la casa di Galfetti e sapete che lui ha fatto questa casa che ha una linea una linea netta e ha girato la casa al tramonto cioè la montagna e il tramonto è una montagna e che si apre e noi siamo arrivati là e c'era Galfetti non avevamo appuntamento seduto su uno sdraio al tramonto così da solo allora siamo stati un po' noi siamo veneti siamo un po' così timidi ci andiamo non ci andiamo alla fine lui ci guardava allora siamo entrati e siamo stati lì un sacco di tempo c'erano Francesca c'erano degli amici a parlare su questa linea che è la massima vicinanza è la massima distanza cioè una linea che fa l'architettura e adesso stiamo facendo una serie di progetti questa è una casa sul lago di Garda in cui lavoriamo proprio su questa idea del limite del rapporto tra il limite e il paesaggio questi sono alcuni disegni che stiamo facendo c'è l'iconema della rocca di Garda e noi che cerchiamo di rapportare proprio la vita su questi su questi su questi segni e cioè ci sono dei punti in cui quasi non c'è l'architettura c'è una linea e questo confronto tra la natura e forse anche questo ci sono tutta una serie di memorie dei viaggi in Grecia che noi che non abbiamo messo l'ultimo viaggio che abbiamo appena terminato e siamo andati con io dicevo sempre a Francesca guarda io non voglio fare il cammino di Santiago io devo andare nel mio cammino di Santiago l'Everenz a Asplund e allora a un certo punto mia sorella dice vengo anch'io mia mamma dice vengo anch'io i miei figli vengo anch'io per cui sono tutti venuti insieme a me e a Francesca a vedere questi luoghi ed è stata un'esperienza straordinaria perché abbiamo visto Jutson abbiamo visto l'Everenz le chiese di Leverenz e poi siamo stati al cimitero di 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 Stoccolma che è sempre stato importante per noi per la narrativa per l'idea di anticipazione negazione questa sorta di mettonimia narrativa che c'è in questi in questi percorsi ma in realtà quello che ci quello su cui stiamo lavorando è il peso è il peso e la misura delle distanze tra le cose e soprattutto del luogo come coautore e riuscire a usare il luogo ed è una cosa che abbiamo fatto in quest'opera che stiamo lavorando dunque non è un confronto diretto che abbiamo terminato che è il bolo della cantina Gorgo che è delle linee delle distanze nel paesaggio e chiudiamo con questa con questa immagine e siamo io e Francesca su un quaderno il quaderno è il limite forse è la casa di Paros di fronte c'è un paesaggio noi siamo le ombre che disegnano questo quaderno ed è l'idea di rimanere ancorati nel nostro territorio di situarci ma di rimanere viaggiatori cioè di avere quello sguardo che avevano i viaggiatori del settecento dell'ottocento quando arrivavano sul lago di Garda e il lago di Garda per loro era l'epifania del bel paese arrivavano in questo luogo e allora pensare che noi vogliamo anacronisticamente cercare di tenere in vita questa idea del bel paese che è una cosa un po' così idealizzata ecco e in beh questo ecco chiudiamo qua grazie bravo beh grazie Filippo come vi avevo accennato questa dimensione di Somma Campagna che è curiosa viaggia con la sorella con l'amico col figlio che fa il pellegrinaggio estivo questo viaggio è stato concluso qualche settimana fa e quindi è proprio fresco fresco mi piace tantissimo quel disegno dell'albero che più cresce la chioma più le radici scendono e si radicano sul terreno quindi il disegno che è una cosa appunto che mai va abbandonata e quindi ricordo da Fiorenzo il primo ma lo stesso Werner Scholl che ci ha mostrato lo schizzo uno dei pochi schizzi che ha detto che ha fatto e a differenza di Filippo con la moglie di Alto non ha avuto il coraggio di entrare a differenza tua con l'ultima esperienza greca e il disegno continua adesso in questo nostro racconto chiudiamo appunto con Map Studio quindi con Traudi Pelzel e poi Francesco Magnani Allora ringrazio Roberto e ringrazio Elena per la partecipazione sostanzialmente io non sono una persona che mi piace tantissimo raccontarmi in pubblico però ho pensato che fosse importante condividere con degli amici questa esperienza una sorta di incontro che ho avuto 28 anni fa quando sono stata nel programma Erasmus a Stoccolma perché è un percorso che ha sostanzialmente cambiato la mia visione di vedere l'architettura e ha connotato fortemente il mio modo di pensare e di progettare io provenivo da un'università quella di Venezia in cui insegnavano dei giganti dell'architettura contemporanea avevo fra i professori Vittorio Gregotti Aldo Rossi Bernardo Secchi ci insegnava a iniziare a progettare sostanzialmente i piani disegnandoli a differenza di pensare uno zoning per cui una città disegnata una città di spazi aperti mi interessava moltissimo avevo conosciuto un po' la Svezia attraverso i libri perché sostanzialmente non era come adesso che basta accedere a un computer o guardare in un telefono e si è sommersi da una quantità di immagini incredibili di tutto il mondo lì bisognava cercarsi le cose sui libri ero rimasta molto affascinata da una pubblicazione sulla Svezia in cui sui paesi nordici in cui c'erano molte foto dell'opera di Sverre Fenn Sverre Fenn è un architetto norvegese e questa cosa mi incuriosì ed applicai per il programma Erasmus in Norvegia purtroppo la Norvegia ritirò la candidatura per quell'anno e allora sostanzialmente dissi vabbè se nord deve essere vado in Svezia e conoscevo molto poco della Svezia conoscevo un po' Gunnar Asplund appunto la sua peraltro l'aspetto più classico la parte del classicismo nordico conoscevo un po' Sven Markelius ma non conoscevo gli altri protagonisti dell'architettura svedese per me fu un incontro incredibile quello con Peter Chelsea qui vedete siamo nel centro di Stoccolma questa è una foto fatta da me e anche stampata da me sottolineo questo perché tutte queste foto che vedrete soprattutto quelle in bianco e nero appunto hanno una dimensione artigianale che secondo me si è persa adesso nelle scuole di architettura la cosa fantastica lì era poter accedere ai laboratori lavorare con appunto la dimensione fotografica lavorare con i modelli avere un approccio verso la materia il fare che è molto diverso da quello che abbiamo nell'università adesso questo è la Kulturhuset la casa della cultura un edificio che è stato progettato nel 1965 e che è contemporaneissimo anche oggi è stato concepito come una sorta di grande schermo in cui si racconta l'attività che c'è all'interno che viene portata sulla piazza è frutto di un concorso un bando di concorso lo vedete sempre sulla destra queste fasce orizzontali che quasi uno spartito musicale che racchiude la vita questa immagine è anche quella usata poi dallo stesso progettista nel concorso che appunto vinse nel 1965 è interessantissimo il programma funzionale perché appunto porta un edificio dalle varie funzioni culturali dal teatro alla biblioteca mostre ed è un programma che viene fatto dallo stesso critico d'arte che è Pontus Hulten che poi diventerà il direttore del museo del museo Pompidou del centro Pompidou per cui in qualche modo questo edificio per la funzionalità secondo me precorre i tempi e diventa uno dei capolavori dell'architettura contemporanea l'edificio l'edificio si addossa a un altro edificio sempre progettato da Peter Chelsea che è la Banca Nazionale di Svezia che è quell'edificio in granito nero che vedete sullo sfondo anche questo edificio è a mio avviso uno degli edifici più contemporanei racconta di questo paesaggio culturale con cui avevano rivisto il centro della città in quell'epoca anche questo frutto di un concorso un edificio che racconta di solidità appunto è un'istituzione la Banca Nazionale però anche ha un programma funzionale ricchissimo ho avuto l'occasione di poterlo visitare per ovvie ragioni di sicurezza non ho potuto fotografare nulla all'interno ma all'interno aveva non solo uffici ma un ricchissimo programma con l'asilo la piscina sulla copertura infatti l'interno è cavo sono un edificio fatto sostanzialmente un cubo con l'interno cavo che ospita una corte e l'interno viene lavorato con delle lastre di rame che qualificano poi risalgono qualificano una copertura sulla quale vengono organizzate queste attività più ludiche come la piscina e il centro benessere l'altra figura secondo me importantissima a cui alludeva anche prima Filippo dell'architettura contemporanea svedese ma penso mondiale è Sigurd Leverenz vi volevo brevissimamente far vedere appunto condividere queste due chiese che sono incredibili questa è una chiesa vicino a Stoccolma si chiama San Marcus in Bjorkhagen che vuol dire la chiesa di San Marco nel bosco di Betulle e il visitatore viene accolto da questa superficie vibrante di mattoni con i corsi di Malta che hanno una forza materica non indifferente in qualche modo la tessitura del muro la vedete apparentata alla alla scorza alla corteccia delle Betulle vibra insieme a questo a questo insieme naturale costruendo un un insieme unico sempre di Leverenz è l'ultimo edificio che presento è la chiesa di San Marcus a Clippan a sud vicino a Malmo altro edificio incredibile per la sua collocazione e per il trattamento di due temi anche qui ritorna questo tema della tessitura muraria molto forte e il tema della smaterializzazione del serramento l'architetto a quell'epoca era ormai molto vecchio aveva circa 77 anni però ancora sperimentava lavorava con la materia con queste forme pure con questo plasmare e proprio lavorare quasi non saprei dire quasi con una con una forza interiore e i seramenti vengono totalmente eliminati e vengono presentati dei vetri ancorati con su quattro punti sulla muratura lo vediamo in questa facciata che è incredibile questo sperimento poi finisce nel chiosco del cimitero di cui purtroppo non ho conservato fotografie in cui appunto continua questo sperimento del questo sperimentare la smaterializzazione del serramento e infine l'altro tema di questa chiesa che credo che sia abbia la stessa forza è quello di aver interiorizzato in qualche modo il paesaggio la fonte battesimale è sostanzialmente uno squarcio in un pavimento che è incotto e viene corrugato e su questo squarcio cade goccia goccia l'acqua di una grande conchiglia che nella foto purtroppo non c'è in qualche modo a simboleggiare il lavorio in qualche modo della fede grazie passato vabbè ci siamo un po' incrociati mi unisco ai ringraziamenti ovviamente che tra audio aveva anticipato a Roberto a Pellena mi sono molto divertito questo pomeriggio ad ascoltare tutti questi racconti collegandomi anche ad alcune delle riflessioni che sono state fatte anche a questa penultima da parte di Filippo Bricolo col bellissimo disegno a cui facevi riferimento anche tu Roberto avendo i piedi nelle radici e poi guardando in giro per il mondo due signori che hanno contribuito a formare la mia idea di viaggio di viaggiare fin dall'adolescenza in qualche modo e che poi sembrano suggerire o porre in qualche modo un paradosso rispetto all'idea del viaggiare studiare e perché ti dicono devi portarti dietro qualcosa e devi riportare qualcosa anche da dove vieni in modo un po' più raffinato Tiziano Terzani e in modo un po' più fulminante prosaico Ugo Pratt anche riprendendo un vecchio adagio veneziano dove il verbo descanta descantare vuol dire viaggiare sveglia le persone e poi il resto della frase penso che sia abbastanza intuitivo e proseguendo non parlerò del Portogallo come forse Roberto si aspettava perché abbiamo condiviso alcuni viaggi assieme sicuramente Roberto sa che ho passato tre anni importanti della mia formazione in Portogallo e sicuramente quindi potrei raccontare dell'incontro con innumerevoli edifici leggendari fra cui la piscina di Lessa de Palmeida di Alvaro Siza che è in basso a destra e com'era Lessa de Palmeida più di 25 anni fa quando ci sono stato la prima volta e l'incontro di noi architetti con questi luoghi mitici e attesi anche per un'intera vita riordinando un po' le cose relative ai viaggi e quaderni di viaggi non ho saputo resistere a portare questa foto che è stata scattata al tramonto di un giorno di maggio di 15 anni fa e dove appena arrivati a Chandigar tutti i nostri compagni di viaggio si sono accasciati in albergo io e Mauro Galantino che vedete nella foto siamo fuggiti e corsi subito al Campidoglio prima che tramontasse il sole e a vedere questo luogo atteso per tantissimi anni non so se la foto è un po' sgranata però l'impressione l'espressione di Mauro forse racconta qualcosa di quando gli architetti incontrano dei luoghi attesi per tutta la vita anche perché poi in quel momento c'erano dei ragazzini che giocavano a cricket e che ci guardavano come se fossimo dei pazzi che girano con la testa per aria in mezzo a una grande spianata appunto che era funzionale soprattutto a far giocare loro e non altro ho detto non parlerò di questo ma parlerò di un luogo un po' intimo per me mitico che ha a che fare con l'ortus conclusus e con i chiostri che sono dei luoghi che ho sempre amato prima ancora di pensare di diventare architetto poi dopo forse la rispondenza che si può trovare anche nel nel pensare che questi luoghi hanno l'ambizione in qualche modo di restituire un'idea di mondo di definizione di 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 mondo di delimitazione che è qualcosa che in qualche modo credo abbia sempre a che fare quando quando facciamo un progetto di architettura e più precisamente vi porto in una città le foci del Rodano in Provenza che si chiama Arlo e nel centro storico di Arlo che ha bellissime presenze romane fra cui un anfiteatro meraviglioso un core intero un teatro proprio lì vicino c'è un complesso romanico ecco qui ho tirato fuori qualche scarabocchio di disegni fatti negli anni che questo è un luogo a cui sono tornato tantissime volte e che ho scoperto casualmente durante il primo viaggio che feci da solo all'estero con un amico quindi stiamo parlando di molti anni fa più di 30 e è più precisamente il chiostro di questo complesso della cattedrale di San Trofim nel centro storico di Arlo se si supera lo sguardo inquisitore di alcuni mostri che ti osservano avvicinandosi a questo luogo si entra attraverso il palazzo episcopale in una corte che poi conduce attraverso una scala ad un chiostro che è a un livello diverso della chiesa e già questo è una cosa abbastanza singolare per cui è un chiostro che è di fatto fisicamente separato dalla chiesa a cui afferisce e a cui si accede attraverso una scala e è anche un luogo che aveva una funzione singolare perché era un chiostro non tanto legato a una vita monacale di un convento ma come vedete anche dalle destinazioni d'uso degli edifici subito prossimi ad esso era fondamentalmente un grande dispositivo urbano dove i canonici collaboratori del Vescovo accoglievano la gente sia per fornire aiuti alimentari sia per accogliere appunto i pellegrini si parlava di Santiago di Compostella siamo sulla via che va verso Santiago di Compostella e quindi questa condizione singolare di un luogo diciamo conosciuto il chiostro visto mille volte declinato in tutte le varie epoche ho tirato fuori qualche disegnino fatto nel tempo nei vari quaderni di questo spazio perché ha una sua singolarità che è stato realizzato in due epoche diverse è un chiostro che ha una dimensione notevole di circa 24 per 28 metri e diciamo appartiene a una prima epoca di definizione di questo tipo di spazi l'epoca appunto cluniacense nel sud della Francia forse c'è solo Santoronet che ha più o meno una misura analoga tanto studiato dalle Corbusier e Francesco è andato via forse doveva partire per Roma ma insomma e ritorna nella Tourette come sappiamo ma dicevo è un luogo che è stato costruito in due epoche diverse quindi è una specie di abecedario per gli architetti questo ovviamente pensandoci dopo se ci è stata la prima volta adesso ci è ritornato tante volte cioè una L una prima L nord est è costruita fra il 1150 e il 1180 ed è romanica ed è una volta a botte e la parte sud ed ovest invece è di epoca medievale gotica viene realizzata quasi due secoli dopo e ha le volte a crociera quindi attraversando questo spazio si attraversano delle epoche si attraversano anche diverse concezioni di definizione dello spazio di definizione dell'ombra della luce attraverso le bucature in qualche modo poi questi due sistemi costruttivi e forse si vede da questo scarabocchiaccio corrispondono anche a diversi partiti architettonici perché ovviamente la volta a botte corrisponde un certo tipo di pilastri che definiscono l'apertura verso lo spazio scoperto la volta a crociera pone dei problemi un po' più complessi e quindi richiede una serie di appoggi e quindi forse anche in questo questo luogo pone un tema che credo per noi sia sempre attuale cioè quella di legare figura e sistema costruttivo insomma è qualcosa a cui non bisogna mai abdicare di pensare e d'altro lato anche tutta una serie di dispositivi per portare via l'acqua dalla terrazza superiore come vedete c'è tutto un sistema disegnato in pietra che va in pendenza definisce appunto l'attacco fra balaustra e corpo inferiore o addirittura la copertura in pietra della sala capitolare che appunto fa sì che sia un unico materiale che riveste e definisce tutti i vari ambienti per quello che riguarda il futuro possiamo dire in qualche modo che andando a Racine in Wisconsin questa è una vecchia foto degli anni 50 dove c'è Henry Johnson e Frank Lloyd Wright che guardano l'avvio del cantiere del cantiere della fabbrica Johnson Wax che non abbiamo potuto visitare anche se siamo stati molto vicini a Racine e non c'è stata l'occasione ma è un viaggio che sicuramente vorremmo fare crediamo che in qualche modo questo edificio parte l'irrinunciabile fascinazione di questa immagine quando nessuno voleva costruire i pilastri a fungo di Frank Lloyd Wright e lui ne fa costruire uno e l'impresa aveva dei timori e poi lui dice di caricarlo molto più di quello che era previsto e si mantenevano alle puntellazioni e lui osservava col binocolo se questo pilastro si muoveva di qualche millimetro o meno dopodiché non c'è la foto successiva del racconto quando tolgono i puntelli e lui dice di caricare ancora di più e il pilastro rimane in piedi non so se la foto non ci sia perché è pura leggenda oppure non so io non sono mai riuscito a trovare comunque trovo assolutamente affascinante questa storia anche questo in qualche modo ci insegna forse in che modo dobbiamo sempre pensare riflettere sui sistemi costruttivi che adottiamo e se guardiamo alla torre degli uffici Johnson-Wachs pensate per l'epoca siamo verso la fine degli anni 50 a quanto moderna fosse attuale la sezione di questi spazi di lavoro quindi avere un doppio piano una doppia altezza all'interno di una torre che è uno spazio che affaccia uno sull'altro e pensiamo anche alla sede del New York Times fatta da Renzo Piano cioè alcune parti del Grattacielo che in qualche modo rideclinano un dispositivo molto simile anche alla Plata ci piacerebbe andare non ne siamo mai stati abbiamo visto moltissimi edifici di Le Corbusier e ce ne mancano pochi questo è uno di quelli e a parte il progetto in sé in cui abbiamo portato una sola immagine comunque è la casa di un di un dentista di un dottore che ha diciamo casa e studio divise da una corte attraverso cui si accede da quella porta fantomatica che sembra un fantasma di porta e definisce la soglia in un modo che in qualche modo anticipa certe esplorazioni artistiche di qualche decennio successivo e poi ritorniamo alla fine ma questo Roberto c'è una regia forse su questo al Machu Picchu perché il Machu Picchu è come ha detto Werner non aggiungo nulla a quello che ha detto Werner nel senso che è un luogo di un fascino incredibile una mia amica quando avevamo 18 anni e aveva la fortuna di fare questo viaggio e mi portò tutte le foto anche del sentiero a cui faceva riferimento Werner alla strada degli Inca che comporta anche un certo impegno fisico perché bisogna non so se sia ancora così ma bisogna dormire fuori in tenda alcune notti per arrivare però come arrivavano loro in questo luogo e certo ritorniamo anche qui al Portogallo c'è qualche ecco questo è anche un viaggio mitico che fecero Alvaro Sizza Fernando Tavora e Edoardo Sotto de Mura a cui sempre ritorna nei loro racconti e in questi disegni meravigliosi di Sizza che esistono appunto diverse pubblicazioni sui suoi disegni di viaggio che sono una poesia un racconto in cui perdersi di tutti moltissimi luoghi del mondo ma un aneddoto che viene dal Manciupicciu tanto per chiudere visto che questo è un luogo dove con Roberto abbiamo speso un po' di tempo qualche anno fa che a sinistra vedete la cappella disegnata da Edoardo Sotto de Mura nell'isola di San Giorgio a Venezia per il padiglione della Biennale del 2018 del Vaticano una delle varie installazioni di questa di questa iniziativa e quando stavamo noi abbiamo seguito oltre alla realizzazione di un padiglione il coordinamento del cantiere di tutte le cappelle i primi disegni che Edoardo ci mandava da Porto appunto avevano sempre questo dettaglio dell'aggancio fra i blocchi di pietra che lui diceva questo viene da Manciupicciu perché è lì che abbiamo capito come si fa questo qua nello stesso momento stavamo cominciando a restaurare la casa di Casabalbone di Carlo Scarpa e quindi scherzando ogni volta dicevo Edoardo guardando il paramento di marmo di Lasa che riveste un buon window nella sala da pranzo di questa meravigliosa casa di Carlo Scarpa dicendo ma no non è Manciupicciu in realtà sei uno scarpiano sei venuto a Venezia e sei diventato scarpiano ma questo per dire anche come le cose gli ecchi fra i viaggi le conoscenze insomma in qualche modo rispondono fra di loro in maniera inattesa e imprevedibile grazie 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 Francesco sono molto soddisfatto di questo viaggio al buio perché loro non erano a conoscenza delle presentazioni degli altri c'è un'email abbastanza asciutto con il testo di Alvaralto e l'idea di parlare di viaggio e devo dire che appunto anche per me è stato difficile una volta raccolto tutto il materiale tra domenica scorsa e ieri a dire la verità decidere oltre a costruire un powerpoint che parlasse un po' la stessa lingua ma di linguaggi diversi avete visto ma la difficoltà è stata scegliere l'ordine del racconto di come dare questa sequenza che è un po' la difficoltà per voi architetti di progettare spazi quindi sequenze di spazi e per me di progettare viaggi quindi racconti che di fatto come diceva Ugo Pratt quello per me è il mio motto da quando dal lontano 99 ho preso un po' questa abitudine di accompagnare architetti studenti di architettura e viaggiare e avendo studiato a Venezia mi piaceva un sacco la declinazione veneta che abbiamo visto in quella piccola borsetta perché effettivamente lì è la sostanza bisogna essere curiosi e farsi contaminare anche da quelli più dotati perché c'è anche chi è dotato a disegnare e c'è chi non lo è però l'importante è essere curiosi e chiedersi e farsi delle domande per cui per cui ci sono ancora alcune slide due chiedo la regia c'era un consiglio di viaggio fondamentale è stato cancellato ecco erano consigli di viaggio ovvero guardate questo omino di un'umiltà sconfinata che abbiamo avuto modo di conoscere in mille modi attraverso i disegni attraverso le sue conferenze i suoi incontri i workshop dotato di un quaderno e di una matita disegni in continuazione e appunto ho messo questa immagine perché sono molto legato sia a Werner che siamo diventati amici nella montagna e a Francesco a Traudi per per Venezia che comunque oltre a averci studiato abbiamo avuto questa bellissima esperienza recente sull'isola di San Giorgio e sarà il prossimo viaggio che farò è da due anni che non prendo un volo per cui il prossimo sarà questo sperando di trovare un orario così povero di pubblico e questi sono i disegni sono fondamentali e vi lascio queste parole di Sisek un consiglio di viaggio cioè viaggiare è una prova del fuoco individuale collettiva ognuno di noi dimentica la partenza un sacco pieno di preoccupazione fastidi stress noia preconcetti contemporaneamente perdiamo un mondo di piccole comodità e gli incanti previsti dalla routine da parte mia preferisco sacrificare molte cose vedere solo quello che immediatamente mi attrae passeggiare a caso senza piantina e con un'assurda sensazione di esploratore nell'intervallo di un vero viaggio gli occhi e per essi la mente acquisiscono insospettate capacità apprendiamo a dismisura quello che apprendiamo riappare di soluto nei tratti che in seguito tracciamo nei nostri progetti Alvaro Sisa 1988 ecco questo io credo che sia dopo diciamo la proviaggia architettura prima della pandemia a dopo la pandemia questo è cioè andiamo a vedere quello perché ci interessa quello il resto diciamo è in più e quindi essere attratti e seduti come diceva prima Paolo cioè che non ha un obiettivo ma è un po' la seduzione pertanto in conclusione questo è un saggio che ho recentemente approfondendo un po' il tema del viaggio questo in architettura in viaggio la Sicilia nello sguardo degli altri come esiste un bagaglio all'andata del viaggio esiste un bagaglio a ritorno invariabilmente più ricco del precedente dove sono racchiusi i pensieri che potranno lavorare nel tempo con questo noi abbiamo finito questo viaggio con i compagni di Zoom e ringrazio Elena che che è qua in giro eccola che ha partecipato a questi mesi intensi e ringrazio anche Mattia Rizzi che è stato il nostro reggiorno regista diciamo di tutte le dirette che abbiamo fatto in questo lungo periodo e ovviamente ringrazio il Cersaio e tutta la macchina che lavora attorno a questo teatro perché da ragazzo venivo sono venuto qui a vedere Raffa e Moneo sono venuto a vedere Renzo Piano Foster e via dicendo ma mai avrei pensato di essere qua a parlare di viaggi che voglio dire sono la cosa che abbiamo forse sofferto di più in questo confinamento ma adesso apprezzeremo e mi auguro sarà appunto un modo un po' più ragionato pensando anche alle varie generazioni finito chiedo ai miei compagni se c'è qualcosa sul confronto anche se noi poi il viaggio continua perché lo scopo è fare una bella serata anche stasera a cena per chiacchierare e confrontarci un po' sul tutto qui è difficile adesso intraprendere un dialogo di confronto ecco mi auguro che sia stato anche per voi un vero viaggio è un modo per conoscere personaggi che conoscete dalle biennali da tutte le diavolerie che oggi ci sono da Milano Roma Napoli Venezia c'è modo di raccontare l'architettura però ogni tanto entrare nell'intimità per cogliere quell'atmosfera che questi architetti scoprono e amano come diceva Fiorenzo la casa di Alto io ho portato tanta gente a vedere Alvaralto quella viene calcolata meno su tutta la sua opera perché viene letta meno muscolare se vogliamo poi parlare di muscolare di Alvaralto rispetto a Agropius sicuramente bene Fiorenzo l'ho richiamato perché era stufo di stare sullo sgabello vi ringrazio e mi scuso io volevo ringraziare i colleghi a parte Roberto e Elena per il lavoro fatto però ringraziare i colleghi che sono qui anche quelli che sono venuti per una cosa mi ha fatto piacere che tutti abbiano avuto raccolto sempre qualcosa di misura a parte Borca che c'era una cosa un po' muscolare potremmo aprire un discorso lungo però perché se lo affrontassimo ambientalmente oggi con le visioni ambientali quello sarebbe un'operazione immobiliare violenta poi che sia condotta in maniera magica lo condivido completamente e avere un mandato di quel tipo perché poi se non l'avesse fatto lui lo avrebbe fatto un altro rischiava di fare un porcaio quindi il discorso va sempre rapportato sulla cosa però tutte le cose di cui si è parlato compreso quello che ha delle delle declinazioni veramente di 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 una dimensione di una non ho il piacere di conoscerlo di averlo visitato e quindi me ne faccio carico di poterlo visitare e poterlo continuare a visitare la cosa che mi fa veramente piacere è che tutte le cose persino le più surreali del concetto del deserto del concetto del buco nero ma soprattutto con l'architettura spontanea eccetera eccetera siano sempre di misura e questa cosa questo senso dell'andare a cercare elementi che poi hanno caratterizzato la nostra vita no? ma non perché non abbiamo avuto l'occasione di fare sono qui di fianco Iotti che ha progettato uno stadio che non è una cosa di dimensioni modeste hanno un ruolo dimensionalmente importante all'interno di una città però c'è sempre quell'atteggiamento del garbo che è una parola ormai desueta no? invece è garbo è sempre questa grande passione questa grande ossessione questa grande ricerca però per un qualcosa di non trovo nelle vostre architetture cose muscolari e quindi il fatto che Roberto abbia raccattato delle persone concedetemi il termine raccattato mi piaceva raccattato delle persone che si sono messe così a disposizione nel raccontare la propria esperienza mi fa piacere oltretutto di essere parte di voi però a parte questo proprio del fatto che la comunicazione che passa è questa cioè porre grande attenzione anche i piccoli particolari direi che si è fatto una certa e con questa io chiuderei e buona continuazione a Cersai anche i prossimi giorni ci vedremo domani con molti per l'Alexio Magistralis di Shigeru Ban ok domattina alle 11 tutti qua all'auditorio grazie grazie